Migliorare la depurazione in costiera cilentana va avanti l'azione condivisa da provincia di Salerno, Comuni e Consac per potenziare la rete fognaria, interventi necessari anche a garantire una balneazione di qualità considerando che molti impianti scaricano a mare. Venerdì mattina sopra il luogo dei tecnici della provincia nei comuni di Centole e Pisciotta per illustrare il progetto esecutivo già finanziato dalla regione Campania per la realizzazione della nuova rete che consentirà alle numerose aree prive di fognature alla frazione Caprioli di Pisciotta e alle saline di Palinuro di allacciarsi al nuovo impianto di smaltimento dei reflui che verranno convogliati nel depuratore di Portigliola a Centola. Un'opera che attraverserà la strada provinciale nel tratto compreso tra Caprioli e la rotatoria di Palinuro, ciò vuol dire che chiunque insiste lungo quel tragitto potrà collegarsi alla nuova rete e un progetto ha dichiarato il dirigente della provincia Domenico Ranesi che andrà a risolvere anche il problema dell'inquinamento in mare anche se residuale. Le soddisfazioni e gli auspici del sindaco di Centola Rosario Pirrone e dell'assessore di Pisciotta assunta già quinto. È un momento veramente importante per la nostra comunità questa soprattutto per i nostri concittadini di Caprioli e quindi ci auspichiamo così come ci è stato promesso per quest'anno di finire completamente questo tratto essendo già finanziato e quindi cantierabile. Un'opera di assoluto spessore per tutto quanto il nostro territorio che ci consente così di farci stare sereni da tutti i punti di vista per quanto riguarda la tutela dell'ambiente. Presente al sopralluogo anche il neo eletto consigliere provinciale, il sindaco di Laurito Vincenzo Speranza.